Antonio Ferraro, giovane DS dell'Abellinum, presenta il colpo da 90 a Mario Tirri arrivato dal Solufra. Dopo il centrocampista sono in arrivo altri fedelissimi di Mr. Rino Crescitiello. Sì, grande colpo, era uno degli obiettivi della società, abbiamo raggiunto l'accordo, siamo contenti. Ringraziamo la società del Solufra per la disponibilità che ci ha dato, ringraziamo lo stesso Mario Tirri. La società ha messo le sue forze a disposizione per far sì che questo colpo alla fine si poteva fare. Sì, sicuramente nei prossimi giorni ci saranno altri colpi di mercato, ma l'impronta della squadra, come abbiamo deciso con il mister, è una squadra tra un mix di giovani e over esperti di categoria, persone che sono state negli anni passati già con il mister. Cerchiamo di dare fuori una buona squadra per ben figurare nel campionato di promozione. Il mercato tiene banco con Carotenuto e Baiano Scatenati. Il DS dell'Abellinum è convinto che anche gli altri club stiano lavorando a fare i spenti per rinforzare gli organici. Sì, io credo che innanzitutto Baiano e Carotenuto Mugnano stanno mettendo a segno dei colpi importanti giorno dopo giorno e stanno allestendo delle grandi rose. Però attenzione che ci sono altre società che comunque stanno allestendo delle buone squadre a fare i spendi. Diciamo che non stanno lanciando segnali sul mercato, però so che stanno lavorando per allestire una buona squadra e ci sono più di qualche piazza che nei prossimi giorni uscirà fuori.